Il sindaco l'ha definita la Magnini Week, Filippo, una settimana qui a Pesaro trascorrerai in cui presenterai il tuo libro il 26, mentre il 28 e il 29 si svolgerà questa Remind, No to Win. Ecco per i microfoni di Rossini TV se puoi spiegare e descrivere questa settimana, che ti vedrà protagonista assoluto come figlio il prodigo nella nostra città. Beh, Magnini Week è carina, vediamo poi se funzionerà, la ripeteremo magari anche i prossimi anni. Beh, allora sì, il 26 ci sarà la presentazione del mio libro che è uscito qualche mese fa, la resistenza dell'acqua dove appunto racconterò e dove ho descritto la mia storia da ragazzino, ma anche poi tutte le vicende che mi hanno portato ad essere campione del mondo e anche a resistere a delle accuse importanti che tutti quanti conoscete, che poi mi hanno visto vincitore anche in questo. Quindi ecco la mia vita privata con Giorgio e con la mia famiglia, quindi un bel libro, lo consiglio, però insomma ci sarà questa presentazione. Poi, vuoi ricordare dove e a che ora? Dalla Cira, dalle 7 di sera, dalle 7 alle 8 ci sarà questa presentazione, quindi insomma vi aspettiamo in tanti nella mia città. E poi 27, 28, 29, ma sarà 28, 29 il tour, quindi incontreremo i ragazzi di Pesaro, quindi dagli esordienti A, esordienti B, agli agonisti e poi i master il giorno dopo, e lì ci sarà proprio una giornata di sport dove insegneremo i trucchi in acqua, tutta la mia esperienza, del mio allenatore Claudio Rossetto, ci sarà il nutrizionista Claudio Tolla che appunto parlerà di nutrizione, quindi è Mike Maric di Apnea. Quindi insomma faremo un bellissimo progetto. Abbiamo iniziato con l'idea di fare degli incontri per una cinquantina di persone e a Pesaro adesso arriviamo quasi a 200, quindi è un progetto che sta veramente piacendo tanto, anzi ringrazio senza citarli comunque tutti i partner che ci stanno sostenendo, perché voglio ricordare che tutto questo che facciamo è completamente gratuito per le persone che parteciperanno, quindi nessuno dovrà pagare per essere in questa giornata insieme a me e al mio team. È un aspetto penso che in Italia non si vede molto spesso, ma sul quale per me era un punto fisso, quindi ridare, restituire alle persone, restituire alle persone la nostra esperienza a titolo totalmente gratuito.